Nelle puntate precedenti abbiamo visto la leggenda di Dante iniziare Questo cacciatore di demoi è stato ingaggiato per un lavoro Per uccidere l'assassino di suo padre che è Mundus E quindi andiamo avanti in questo castello un po' spagnoleggiante A vedere cosa succede, come andrà avanti, come andrà avanti Lo sapremo oggi Vediamo un po' Eccolo qua, eccolo qua, è il castello, è il castello Il castello del castellano Vediamo un po' cosa ha da riservarci Uh, si è alzato il punto elevatoio Quindi io devo fare così niente, non posso fare niente A meno che non... Vabbè, non importa, non importa Dobbiamo andarci da qua Andiamo via dal castello E siamo a una lapide A una lapide A una lapide, scopriate un messaggio Sembrarsi una storia Il tuo destino ti sta aspettando all'interno dell'arena E quale arena, quale arena? E che è sta arena? Qui c'è un altro potenziamento, ma siamo già posti Quindi non ci serve, grazie tante, ma non ci serve Non dobbiamo potenziare nulla Un saluto a chi si è collegato, chi si sta collegando Benvenuti, benvenuti Siamo appena all'inizio del pomeriggio Sarà una giornata lunga ragazzi Sarà una giornata molto lunga e appassionante Una giornata da non dimenticare Ok, ecco qua Lo vedete Ma non è quello io, come è questa roba? Ma chi sono queste? Maiaiaia Le robe sono No Asatt a Pop Parli di Infiamano Onze 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 Naudito Onze Pram La Quindi Con fuori Fire ami There There No, ho sbagliato tanto, non volevo consumare il tepola là, vedere rosso, non so, il progetto trofeo potrà aver raccolto forti, i pechini rosso, non mi da nulla, ah, me lo dà, me lo dà, andiamo in tirarne a tutto, ok, e siamo all'esterno del castello, finalmente, ok, prendiamo questo, che appunto ci permette di ritornare in vita nel caso di morte, cosa che non ci auguriamo che succeda, sapete com'è, c'è l'emblema di uno scudo sulla porta che riverbera di luce rossa, ok, è bloccato, è bloccato, va bene, va benissimo, non ci sono ancora più, ok, intanto rivediamo la cosa su telegram, Sì, l'ho aggiunto, l'ho aggiunto, perfetto, facciamo così, fissa, fissa, eccoci qua Ok Benissimo, due cavaliere che tengono qualcosa, c'è una frase incisa Gli scudi che riverberano la luce e una coppia di lance conducono al campo di battaglia Eh beh, dai, interessante, mi serve qualcosa, anche qua c'è un altro scudo che ovviamente non abbiamo Ciao, il carmelone, come stai, come stai? Ti faccio sentire il nuovo sound alert messo stamattina Eh, mi è andata, mamma mia, mi è andata la CPU a 80%, ma cosa mi è successo? Incredibile, meno male che va tutto bene, dai Mi è andata la CPU a 80%, è pazzesco, non so cosa mi ha preso in provviso, è impazzita la CPU Se avanti così mi tocca far riavviare, ma spero di no, guarda, spero di non dover riavviare un'altra volta, sinceramente Ok, allora, questa qui è un nuovo percorso, un nuovo percorso, vediamo un po', una strada è giusta, l'altra è sbagliata Allora, questa qua, perfetto, le macerie, le macerie si può andare su, può andare su Ok, e anche qui vedo che c'è qualcosa, benissimo, un'altra sfera gialla, si tratta bene il gioco, si tratta bene Queste servono nel caso che vieni ucciso, ma quindi se ci mettono tutte le sfere Vorrà dire che ci sarà qualcosa, un boss, qualcosa di forte, penso Non è che ci regalano le cose così a caso, ok Hai mai giocato le Devil May Cry? Hai mai giocato qualcuno della serie? Questo è il primo gioco, il primo gioco Racconta la storia di Dante, della sua avventura alla ricerca dei, della ricerca dell'assassino del padre Eh, ma sì, devo prendere queste, soliti piedi stalli da platform, in un gioco scomodissimo dove saltare Se la facciamo lo stesso, ho giocato il 4, il 4, per me è uno dei più belli, guarda, ho detto sinceramente Uh, non possiamo prendere questo, perché ce l'ho dimenticato Ho dimenticato qualcosa in giro Questa è una stella demoniaca, cristallo con potere magia di ripristina, 5 indicatori da monedità demoni Ammazza, che roba Ti posso chiedere un favore, Carmelo? Puoi provare a vedere se vanno le GIF? Se stai sempre passando il cursore sullo schermo, metti una GIF a tuo piacimento Così vediamo se funziona tutto, vi pazienza Se ti chiedo a te, se vuoi, eh Ok, benissimo, ci siamo Beh, non è difficile saltare qua, dai Pensavo molto peggio, ah, eccolo dove era l'errore Eccolo, ma Kevin Nash Cavolo, che figata la Tem di Nash Guardali qua, NWO, NWO, mannaggia Che figaggine, che figaggine Mi manca, eh, mi manca l'NWO, mi manca Però, devo vedere che, recensendo il 2002, su quel mio blog di wrestling Cavolo, è stata un'opportunità sprecata Finalmente è partita, no, no, ma le ho viste, le ho viste Le ho viste, per fortuna Sono partite tutte e due, guarda Le di Nash Ok, preso, benissimo Questo qua è l'epigrafe sulla base Mi chiamo Ifrit Gli incautic mi detesteranno Pagheranno con le fiamme dell'inferno Ma caggia, Ifrit Sono guanti Sono guanti che combatti niente Bene, nuova arma Nuova arma, poi sto vibrando come un marco Stupenda sta cosa Stupenda sta cosa qua Ifrit Un guanto infuocato Che aumenti il potere del suo possessore Mica male Grazie per la merolina Ok, vediamo Cosa c'è adesso? Cosa c'è? Cosa c'è? Duoni Non promette bene Boss Ma è un uccellaccio del malaugurio Questo È grifone Grifone Figlio di spada Che sfida Il regno del male È bella È muco, sarà proprio per te È lo zozzo grifone È un kaizu È un kaizu È un mostro È un mostro Questo È veramente Qui paggiamo Ibrid Ma queste qui non erano Proprio buone da prendere Ma c'è Vedi Se questa cosa ci permette di andare su Ma dai Stira la testa Ok, ho capito È un po' scomido Dove non si scolere Non è così Non è così È una parte da buttare Un po' di batte Non è così Un po' di batte Un po' di batte Eh, non so Perfetto Aspetta, ti alleggo Ma che oh, grazie Eccolo qua Eccolo qua Questo è bello È lo zozzo grifone E' lo zozzo grifone E' lo zozzo grifone Ah, arriva Sì, il grifone è vero tosse Boss e tifosi del genoa Tifosi del genoa E' un po' di batte E' direttivo Assoluto Bravo Guarda, ti dà un'arma da terra Oh, lo possiamo colpire Finalmente Full, dai Bravo Assoluto Guarda, quello che ho messo Vediamo Quanto fa Tanno più d'arte No, ha preso Ah, bisogna stivarlo La cosa bella è che Le prime volte che li affronti Sono comunque un riscaldamento Per i Oh, è dato Non è stato una grande Vittoria Ma è andata bene Chi è quel mona che si batte la porta? Jack Leone e Max Hai ragione Devo Aspetta, eh Infatti Noi mona È mona Devi far mona Così A meno che non è scattato Chi è quel mona Che batte la porta E che chiude Esatto, esatto Ce l'abbiamo La parte dopo Era bannabile Quindi non c'era Però questa sì Allora Non devo andare di qua Devo andare Esattamente nel punto Del L'artiglio Dell'artiglio di Ifrit Eccolo qua Ifrit Vediamo un po' Spacchiamo tutto con questo Sì, lo devono scurre Eh, dovrebbe essere giusto Contro parano Era troppo bello Se bastava lì Ok, anche qua Sicuramente non è questo Scusatemi Arrivo subito Arrivo subito Sì Allora Eccoci qua Eccoci qua Allora Allora Vediamo un po' Bene Andiamo avanti con la storia Con l'avventura Vediamo un po' Dove sarà l'uscita Dove sarà l'uscita Se non è questo Il panino con le alghe Oh no Si sentiva tutto Si sentiva tutto Eh, sì, sì Panino con le alghe Robbe molto buone Fiamme Ma cosa devo fare qua? Piammio di fiamme Devo spegnere le fiamme Oddio Non devo fare quello Mistero Allora Non mi ricordo come si va avanti Ma non vado per andare avanti Certo Seguo le fiamme E vediamo Allora Vediamo un po' Brock Lesnar Devo farlo Devo farlo Mi consigli di mettere la ten Di Lesnar Non posso farlo Non è bello Quando succede così Dai Dai Mi sapevo Ma che bello Algo Mi sapevo 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 A me piaceva Niro con la tua radio Perfetto Mi ha fatti fuori lui Un attimo Messicano, messicano Ok, esatto Allora, abbiate pazienza ma c'era un impegno molto urgente Allora, dobbiamo andare avanti Ho preso Ifri e non so dove usarlo Non ho mai idea Di dove va messo, se ci va fatto qualcosa Probabilmente qua Probabilmente qua Spacchiamo tutto, spacchiamo tutto Allora, eccoci qua Bene, lo vedo qua, lo vedo qua, lo vedo qua Ok, allora, andiamo No, in realtà no Sono apparsi altri nemici Ma di nuovo Amanti c'è un risultato Andiamo 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 Sgancia queste, no, non mi da nulla ma non è per quello che sto qua, sto cercando in realtà di andare avanti all'altro punto va bene, allora, vediamo un po' io i fiorelli l'ho preso quindi non mi serve più sto punto qua e direi che o si mette qua o si mette di qua sì, mi sono bloccato per la prima volta nel gioco mi sono bloccato, incredibile bloccato ma ogni tanto succede va bene lo stesso non era nulla di importante era in un altro posto cambiamo zona, cambiamo zona e vogliamo capire dove va messo questo hit ovviamente ci sono anche i miti non c'erano questi facciamo un po' di ricerca tutti i flessi oh ma c'è fu uno del gioco la cazzo ok ok sono tutto grossi non sono grossi non sono grossi non sono grossi è grossi, grossi ok, assoluto assoluto non è vero di struttura nooo, ne arriva un altro è diverso non è vero di struttura non è vero di struttura non è vero buon Bravo, ho avuto un skyline! No! Cacchio lupiamo dai, dallo! Ma quanto c'è un borde? Oh, andate, andate! Dai, dai, go, go, go! Grazie, grazie per la gif, grazie per la gif! Non so chi le manda, ma... C'è una cena bellissima di nero che picchia Dante, quella... me la ricordo. Pensava che Dante fosse un malbato. Dante, è qui per salvare il mondo! E' un skyline, c'è lì? Mi abbiamo tenuto lo skyline, di un campo orco. Troppo bello. E' troppo bello. Infatti c'è un foglio, c'è chato, in piedi. E' un infinito! E' un infinito! Guarda che ho trovato... Grazie, ho trovato la stradina! E' questa porticina qua, ignorata da qui! E' vero, dentro l'acqua sa, eh! C'è un po' l'acqua, c'è un po' l'acqua, c'è un po' l'acqua. Sbora una! Sbora una! Sbora una! C'è la facciata! Vieni coi. Sbocca. giudiamo una stella vitale se non c'è in difficoltà così ma vai questo, è stato cavolo fuori benissimo, è andato dammi, sgancia il drop ce l'abbiamo fatta che bello, è stata facile è stata sigillata ma pure, sono tutte bloccate queste porte ho detto, finalmente trovo una porta nuova e non posso usarla allora, per me l'unica soluzione sono questi qua, questi sigilli queste fiamme ecco qua, c'è qualcosa questa qua è quella delle porte cosa mi dice? no, non mi dice niente, l'ho sbagliato qui c'è il castello che cavolo me ne faccio del castello? sono già stato nel castello vediamo un po' infatti, qui si torna indietro non ha senso allora il tuo destino è ci aspettare all'interno dell'arena l'ho già fatta l'arena l'ho già fatta l'arena ho affrontato Griffon ho sconfitto il boss dove devo andare? se il gioco fosse giusto leggermente più chiaro ma proprio leggermente non è che chiedo chissà che cosa del tipo guarda Jack, vai di qua ignoriamoci sono quasi che cosa? che cosa? a cui ti vuole far più d'altro? a cui ti vuole un brucio che ti vuole scusi che hanno una luce e una coppia di damage e la luce è fatta bene guarda scenderemo uno per la brisco che vuoi viene da me eeeeeee brisco è più bello eh ho giocato parecchio fare e senno beneficial oh guarda chavo ci restate o a il voce voce vuoi rubinare con i då v vuoi non se mi sembra facciam c'è 2 scudi non credo che non prendo più il risultato non mi può dai 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 tagliamo il gatto forza forza Dante vai menali tutti dai oh è andata bene tutto sommato siamo sbloccati Ok, bene, mi manca ancora questo tentativo qua. Ah, ma no! Ma era così semplice, possiamo infiammare quella lì, ma dai. Avevo lo soluzione davanti da una vita. Uff, nemici in questa zona qua. È una forza, è una forza, è anche due quadri. Un'altra forza del genere, però molto più grande. Fiera di nemici. Se li fai sia con Dante, ti conviene. E' la giù, bravo Dante, bravo Dante. Oh, che è in da, in da. Vediamo come va con questi nemici. Tutta di due, tutta di due. Oh, finalmente un po' di miseria. Anche qua, va bene. Quanti si mette, quanti di due? Dai, ancora un pugno, ancora un pugno, in calco. Oh, come va, come va, come va? E tu che progetti hai per stasera, per me? Cosa pensi di fare stasera? Se tutto va bene, vado ospite di un amico a parlare di paranormale, ma probabilmente ha problemi di connessione e non riesce a farlo. Io spero che ce la faccia, guarda. Lo dico per lui, perché avere tutti questi problemi di connessione è una cosa bruttissima, guarda. Veramente, veramente pazzesca. Allora, colpo magma. Questa è un dia. Calcio 13. Ah, un calcio potente, allora. Meteo era non abbastanza, ma ce ne teniamo così. Poi, vediamo un po'. Potenziamo, allora, arma. No, mi interessa più che altro vedere le azioni, ecco qua. Ifri. Allora, questa qua si fa R1, direzione opposta e X. Eh, scusami, triangolo. Poi, vediamo questa. Si fa così. Secondo, eh. Ecco fatto. E la seconda, invece, si fa con R1, direzione giusta. Ok. Capito, capito. Non sono complicate queste mosse. Ok. Non posso farcarle, se posso. Male non fa. Male non fa un po' di... Un po' di roba me l'ha dallo stesso. Non c'è nulla qua sopra, possiamo andare giù. Se tutto va bene, faccio una partita di Little Night. Ma sai che sto gioco l'ho avuto anch'io col plus. Devo ancora giocare. Ma ecco che è molto bello. Ma ecco che è molto bello. di wordtato. Troppo. Bravo, chi. Bravo. Ma comunque è un stradante qua. Non c'è nulla! Ah, non c'è nulla! Oh! Questa qua è chiusa perché c'ho dei miei litri! Non vuole i miei litri per piastare! Chi mi sono dimenticato? Che non è su? Non c'è nessuno? Non c'è nessuno davvero! Non c'è nessuno! Non c'è nessuno! In alto! In alto! No, non c'è nessuno! Ah, ma c'è veramente! Eccolo qua! Bene, altra stella adesso! Già! Ecco fuori! È andata bene! È andata bene, dai! Oh, finì a che si va via da qua! Oh, ti sblocchi? Cos'è 200 schiere rosse? Ammazza! 200 schiere rosse! E io che pensavo di usarle per potenziarli! È troppo bello! Va bene! Si va giù! Si va ancora più giù! Finito il livello! Il tempo va male! Il tempo non è stato buono! Uccello rapace! Cosa mi dice il sconfitto Griffon? Eh! Un incontro con Griffon! Ok! Uccello rapace! Oh! Caracifica C! Mi da propri punti! Non posso potenziarli! Salviamo! Giustamente! No! 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 Missione successiva! Andiamo avanti ragazzi! Andiamo un po'! Che poi più tardi ci sposteremo in just chatting! E ci parleremo di attualità! Di notizie interessanti dell'ultime ore! Vediamo se ci sarà qualche argomento un po' interessante! Andiamo un po'! Vediamo! Vediamo! Sinceramente non lo so! Ma speriamo di sì! Che ci sia qualcosa di utile! Allora! Andiamo un po' cosa succede qua! Sì! Zona nuova! Vedo cadaveri qua in giro! Eh! Un falso morto! Ah! Questo è quello del labirinto! Uuuuuh! Shinigami! Shinigami! Grazie! Ma grazie Shinigami! Ciao ragazzi! Scott out! Cosa stai portando? Ciao Saint! Ma ciao! Ma ciao! Ma come state ragazzi? Io ti gioco poi Shinigami! Che sorpresona! State bene! Ma ciao! Kebab! Ciao! Ciao ragazzi! Ciao ragazzi! Mettendo un shout out! Ecco qua! E' scattato! E' scattato! Ma ciao! Un salutone ragazzi! Che babbo! Ma che piacere! Sono quei baffi finti ovviamente! Saint! Ma come stai? Ma come stai? Ma che bello ragazzi! E' il primo BMG! Il primo! Il primo! L'originale! Non quello col falso gant! E' un lungo un po' alto! Eccoci qua! Meglio che abbassi un po' il brume del gioco! Eccoci qua! Ma ciao ragazzi! Ma senta! Come va? Andate un po' a passare qualche volta! Scusami se non sono più passati questo periodo! Sono stato un mese senza PC! Un mese senza PC! E un mese con la Playguast! Perciò vado! Ho avuto tutti i danni del mondo! Link! Grazie Saint! Benvenuta! Benvenuta nei leoni! Ecco! Le musiche! Le musiche dei vecchi BMC! C'erano qualcosa di pazzesco! Grazie ancora! Grazie ancora! Veramente! Facciamo! No! E' messo al Jack Leone che non è il mio account! E' il mio vecchio account che non funziona! Saint! Non funziona! Non riesco a recuperare quell'account! Carmelo! Lo dico anche per te! Per chi sta seguendo! Mettete un bel colo alla Saint! E' bravissima! Dai a Xbox! E' che cavolo! Se portate bene certi giochi! Musiplayer! Sea of Thieves! E' si! Finigami sono d'accordo! Ma cosa stai portando tu invece? Finigami! Spero qualcosa di fighissimo! Spero! Piacere! Il tavolo fa piacere! E' stata una bella sorpresa! E qua siamo nel labirinto! Il famoso labirinto! Bisogna risolvere! Valle della nebbia! Qui sembra già The Witcher! Se nella terra perduta vuoi entrare... Ecco qua! Togliamoci sti baffi! Ah! Che figo! Crono Trigger! Io sono fan del Trigger del Cross per PlayStation 1! Crono Trigger l'ho giocato anche su Nintendo DS! Sì! E perché così? Guarda! Li ho presi per Red Dead! Li ho presi per Red Dead! Sono baffi finti! In realtà... Io sono senza baffi! Valle della nebbia! Se nella terra perduta vuoi entrare! Per il giusto percorso devi optare! Solamente coloro che le tendono in mente proteggeranno! Il giusto percorso le ci ferranno! Ok! È andata divertente! Sono pure io per DS e anche per Play! Eh... Sì! Guarda! Io ti dico... La versione DS è veramente bella da giocare! Perché appunto era comodo! Era veramente comodo! Però la Super Nintendo già è un gran gioco! Per l'epoca era veramente superiore a tanti altri giochi! Per quanto io amo anche Terra Enigma! Come gioco per Nintendo DS... Scusami per Super Nintendo! Terra Enigma per me è uno dei migliori giochi di ruolo mai fatti! L'intera saga di Gaia! La trilogia di Gaia è bellissima! È un gioco... Per me era molto ispirato da Zelda! Ho sbagliato strada! Benissimo! Quindi l'ha rimanato indietro! Ok! Resolviamo Inigma! Vuoi seguire la tenua luce! La tenua luce! Ma ecco il fatto che io... A me sembra la pianura padana questa! Sembra la pianura padana con sta nebbia! Concordo! Concordo! Oh! Senti! Che bello vedere! Mi ha fatto veramente piacere! Grazie ragazzi per questo ride! Mi ringrazio anche per te! E' stata una sorpresa assoluta! Una sorpresa assoluta! Una sorpresa assoluta! Non so come dire! E' soltanto da pochi... Da due settimane che ci sono potuto far girare la carta! Oh! Benissimo! Grazie Carmelo! Grazie! Grazie! All of the War! E' soprattutto i figli Gami! E' anche l'Uberland! Veramente veramente! E per il resto dicevo che... Appunto... Mi era venuta voglia di Capcom! Mi era venuta voglia di giochi Capcom! Si nota che... Fra i Resident Evil vari... I giochi Rockstar... Alla new Persona 5! Che ho un amore sfrenato per quella saga! Cioè... Amore sfrenato! Non sto giocando per il punto mio! Non in live! E' piacevole! E' veramente stato emozionante quel periodo! Tornare finalmente con la webcam dopo... Tutti i guasti possibili in questo mondo! Ce li ho avuti! Le Persona 5 Striker... Guarda! Ero preoccupato per il gameplay! Perché... Cambia genere di gameplay! E' un muso! Ma... Mi viene bene! Guarda! Però ci ho giocato soltanto un'ora e mezza! Quindi... Duro da dire! Però ha i suoi dungeon! Di nuovo ho sbagliato strada! Che bello! Devo fare un'altra volta! Il labirinto! Oh! Stavolta andiamo... A sinistra! Dai! Ehm... Però è bello! Perché comunque... Sai di ritornare a quei personaggi? Io mi sono emozionato a sentire le musiche! Tornare alle blanche! Cavolo! Quando finisci Persona 5 e ci torni! Però non è un seguito del Royal! Per me non ha neanche delle produzioni del Royal! Sono proprio... Il seguito di Persona 5 base! Anche perché non ha... Non ha citato nulla! In alcun modo non ha citato i personaggi del Roller! Speravo di trovare nella situazione di un personaggio che poi non c'è stato! Comunque... Non è che mi voglio la montagna! Ma lo vedremo stesso! Cosa c'è tornare? Quella di questa sfera! L'ho preso fisico! Guarda! Generalmente compro digitale! Ma questo l'ho proprio preso fisico! Perché ci tenevo a avere questo gioco! Guarda! Che già mi pento di aver preso il Royal in versione digitale! Allora! Dovrebbe essere giusta questa strada! La tenua luce vuol seguire! Quindi deve essere questa! Speriamo di avercel'ha fatta! Uno strano potere in volta l'entrata! No! E' completamente sbagliata la strada! La devo trovare giusta eh! Un labirinto! Devo seguire la tenua luce! Ok! Ci sarà un modo! Ci sarà un modo! Per una strada giusta! Tanto sto usando l'Ifrit! Che è l'arma praticamente... A pugni! E' un'arma da... Brawler praticamente! Eccola qua! E scoppietta tutto! Scoppietta! Scoppietta! Scoppietta in maniera incredibile! Allora! Vediamo qua! Un specchio livello! Vale da letto! E' giusto per forza di optare! Solamente coloro che la tenue luce protegeranno! E' giusto per forza di optare! Vero seguire la strada giusta! Quindi vero distruggere i nemici che prendono la luce! Se vado oltre! Ecco qua! Ecco la luce va qua! E' andato dentro qua! E' andato 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 a questa parte! E' andato a questa parte! Ciò vuol dire che la strada giusta è questa! Tuttavolta non abbiamo sbagliato eh! Si spera! Ah! Ci sono i nemici con la falce! Quelli che ti falciano lì! E' un attacco su questo! Hanno un punto debole mentre attaccaccano! Il multileale per attaccarli! E' questo qua! E' questo qua! E' andato a questa parte! E' andato a questa parte! che si porta di nuovo! Da questa parte qua! Jack, perché dopo non vai a chiamare alcuni di noi? Si! E' una buona idea! E' una buona idea! Guarda! Per chi vuole! Io ho un gruppo Discord! Si può fare una chiamata su Discord! volendo! E' una buona idea! E' una buona idea! Non è questa più l'idea! Soprattutto che poi facciamo un jazz chat in più l'attualità! Io mi tolto i jazz chat in limito! A poche occasioni! Sono più urni! E' andato in videogioco! Già chat con i tanger! Per avere gli argomenti interessanti! Ci stai! E' un po' di qua! Per l'attualità! Si può! Un po' di kramelo! I nemici! E' un vocale più insieme! Più tardi! Tanto penso! Verso le 5.40! 5.45! Faccio giacchati! Guarda! E' seguo! I nemici! I nemici con le falci! E' si! Oh che bello! Sinigami! Tu sei il dilancio! L'angelo delle falci! Sinigami! Ciao! Che poi vabbè! Penso che la conoscerai la storia dello Shinigami dei tunnel di Tokyo! Sarà praticamente uno Shinigami che sta a prendere i tizi che vanno nella macchina di notte nei tunnel! Ovviamente non è che credo che toglie! Ma è una mitologia! Un nickname di Kratos! Va bene! Va bene! Va bene! Infatti che vado a vedere se ti vedo dentro! Uh! Ma c'è di nuovo il ragnone! C'è di nuovo il ragnone! Questo ragno non ci tormenta sempre! Eh così ti vedo Carmelo! Ti vedo! Ok! Perfetto! Perfetto! Allora dopo chiuniamo tutto! Chi vuole! Ok! Appontiamo questi ragni! Non mi mancavi il nostro ragno! Non mi mancavi! Non mi mancavi! Non mi mancavi! Non mi mancavi! Non sapevo cosa è meglio! Che cercherò! Si comunque... Si! 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 Un intanto leggo qualche... E' impazzito il gatto! E' impazzito il gatto dietro di me! E' impazzito il gatto dietro di me! Non so se si sente! Ma ciao saint! Buona live! Buona live anche a te se devi andare! Grazie ancora! Grazie ancora per tutto eh! Grazie veramente Shinigami! E' un cuore d'oro! E' veramente! Grazie ancora! Ciao saint! Ciao! Buon proseguimento! Buon proseguimento! Eccoci qua! Intanto vediamo un po' la situazione! Allora! Ok! Qua è facile! C'è una porta! C'è anche una di quelle icone gialle che ci permette di vivere! Grazie ancora saint! Ciao! 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 Ha fatto veramente un gran piacere! Non posso dire quanto perché non me la so... Totalmente inaspettata! Veramente! Ehm! Ehm! La chienino che apro il gatto! Vincio! Vieni Niccio! Vieni! Ok! Perfetto eh! Eccoci qua! E vediamo di risolvere questo mistero! Di questa porta! Queste cose il minimo! Figurati! Guarda! Veramente! Eccoci qua! Missione compiuta! Missione compiuta! Sfere 282! Ma quante sono? Ma quante sono queste sfere? Incredibile! Sono pochissime perché sono stato lento! L'agirinto mi sono perso! Sono andato in giro tutte le parti! Ecco qua! Perfetto! Andiamo avanti! Missione successiva! Allora! Cosa ci sarà mai qua? Destino! Offri il calice e apri la strada! Potenziamento? Va! Vediamo se qualcosino! Magari la lastro... No! Per la lastro non ancora! Però! Per l'ifrit abbiamo qualche speranza! Con la meteora di livello 1! Sparerai palle di fuoco dei pugni! E che cavolo! Sono Ryu di Street Fighter! Veramente! Veramente! La meteora! Fantastico! Fantastico! Vabbè! Intanto siamo sempre in zona calco! Va bene! Grazie Shinigami! Grazie ancora per tutto! Veramente! È stato gentilissimo! Ovviamente gentile! Ciao! Alla prossima! Grazie! Mia. He! Ahahah! Per di quanto riguardano i push? Beh! No! No! C'è un caluto nel buco! Ah! Non deve succedere! È successo! Siamo stati sull'avventura interiore! Ah! assoluto vediamo un po' qui allora allora qui c'è qualcosa senti è dato il potenziamento che non ho abbastanza per potenziarci non ce l'ho abbastanza quindi rifacciamo, rifacciamo e vediamo come va allora eccoci qua questo qui da spazzare spazziamo qui e si apre la strada giudici i fantasmi si sono i più infami di lui eh guarda un tosto quanto bene comunque Carmelo se vuoi ci uniamo insieme facciamo una bella chiacchierata di attualità dai, parliamo, vediamo quali sono le notizie del giorno, le leggiamo insieme vediamo un po' di discutere, se o niente senza entrare che intendi come è la politica altrimenti mi badano il canale è un evento molto spoiler come vuoi simbolo di cazzità dire Dio, cazzità quindi è necessario quindi è necessario abbiamo un ruolo male che è il farmacchi che fai con i miei i miei titoli di questo sinceramente è mito con l'armi ideale Nooo, sono tornato di sotto Sono tornato di sotto con quelli Speriamo un po' di drop Ma no, a me va bene, è una buona idea, una buona proposta Ho fatto l'attualità perché, dicevo Anche per festeggiare un po' questo periodo interessante Ah, anche, ma... c'è poco da festeggiare Ah, ma perché c'era... C'è praticamente il boss, c'è un boss Ah, devo sentire io non mi sento che c'era lui Io non mi sento che c'era lui Sì, è un boss Sì, è un boss Ma non posso più Ma non mi sento bello Ma non mi sento bello Ed è un boss E' la strutturità, è lanciare la gente I dati in merco portati La colpite tantissimo Ma è più tanto E' morte, è morte Inizia Adesso E qui ci possiamo recuperare un po' di vita. Che non va male. E qui non posso passare? Sembra strano. C'è il modo. Sono sicuro che c'è il modo di passare di qua. Ma questo qui è il calico. Mi ha recuperato il caliciotto. Che serve per ottenere potenziamento. Va bene, andiamo. Ah, ma sì, ma c'è il passaggio qua. Ma non è che mi rispettavo. Arrampicati. Mi sono sbagliato qua io. Non è giusto. Poi lo abbassare qua. Ah beh, lo faccio da così. Passo da qua sotto e dovrebbe andare. Non è un gran problema, ragazzi. Non è un problema. Facciamo il giro attorno. Evitando questi nemici. Questi livelli sono infami. Sì, sì, è vero. Sono infamissimi. Cioè, cavolo. Poteva farci una piantura di là, no? E devo fare tutto il giro attorno. Eccolo qua. Infatti, infatti. Infatti siamo dall'altra parte. È tutto problema. E qui mi dice che invece c'è la cosa nua. E io come la prendo? Ma dai, non è possibile sta cosa. Ah, questo qua. Faccio la prende. Vado qua così. Perfetto. E uno è andato. Poi vediamo la prossima. Vediamo la prossima. E ce l'abbiamo quasi fatta, dai. Ma io penso di aver capito comunque come funziona. Allora qua. E tanto un'altra, così. E ce la facciamo. No, niente. Perché punta verso l'altra parte. Ma parliamo. Più che altro anche la questione che... Era un gioco play 2 e si nota tanto. Si nota tanto. Ecco. E qui si muove. Ok, qui va a saltare giù così. Oh. Andiamo qua. E riprendiamo la seconda volta. Che sicuramente possiamo andare a prendere sia l'energia... No, non questa. Che l'altra. Quando tornerà al suo posto. Tornerà al suo posto. Eccola, eccola, arriva, arriva. Perfetto. E dai. Bellissima automira che sbaglia tutta direzione. Ma non è un gran problema. Non è un gran problema. Ecco qua, 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 qua bisogna saltare. Perfetto. Ce l'ha fatta, ce l'ha fatta. Benissimo. Perfetto, è andata ragazzi. Uh, che bello il gatto. Cosa gli sta facendo quel gatto? Ci sta facendo qualcosa di strano. Ovviamente qualcosa di strano. Bene. Abbiamo preso... Serviva, serviva. Prima o poi si sommano. E salgono su. 11 la porta. Quindi non dovrebbe essere più un problema adesso avanzata. Non ce l'è. Che strano. Ma perché non va subito? Cos'è successo? Ok. Va bene, va bene, va bene. Non mi lamento. Andiamo avanti, andiamo avanti. Allora, qui c'è una porta. Direi di usarla. Oh, ma cos'è? Bellissima st'immagine. Col chizio col baffi. Chizio col baffi. Divertente st'immagine. Grazie, grazie. Mi piaciuto. Mi piaciuto. Ok, vediamo. Qui siamo nella nuova zona. Dove appunto ci sarà il calice. Si scusa. E mi sa che sto livello. Non vorrei dire ma sto livello potrebbe essere quel famoso livello. Ma questo qui non ha senso che lo prendo adesso. Non c'è un potenziale. Non c'è un potenziale. Ma c'era, prendiamolo tutto. Allora, devo prendere il calice. È semplicissima l'idea del calice. Vado lì, prendo il calice e poi ce la siamo a posto. Quello che farò un po' passiamo al just chatting. Un qualche minuto. C'è una coppa sul fondo protetta da una potente luce. Vi mostro il tuo pregio con il simbolo. Vuoi usare il simbolo di castigà? Sì, sì, usiamo, dai. Il simbolo di castigà. Oh, grazie per il thank you. Grazie, grazie. Il calice con il dè è il sangue delle divinità di Funte. Qui ci sono gli dèi. Ci sono gli dèi. Ed eccolo qua, Nero Angelo. O Nelo Angelo, come scrive. Il misterioso Cavaliere Nero. Combattiamo per la seconda volta nel gioco. Rettigissimo, rettigissimo. Guarda. Gramello, ma te lo ricordi? In The M.I.K.R.I. 4 Il fratello... Il fratello di quella ragazza, della sua protagonista del gioco, del 4. Quello che poi è praticamente un templare. Ecco, lui ha usato il suo vestito in M.I.F.A.G.E. Non c'è proprio quella resta. E' l'armi più invitata, dai. Alasco. Devo far col vino. Armi nemmunite. Alasco. Guarda, qui siamo. Uuuuh, mi sparo dall'alto. Guarda, un buon scopo. Mi sembra tirato per me. Non stivare, non stivare. Guarda, ecco, ho colpito le spalle. Anche le panci anche le palle di fuoco. Guarda. Le palle di le fitte di fuoco. Non c'è la parata. Colpiamolo, colpiamolo. Stiamo banneggiando così, dai. Sì, uno è più infami i boss mai visti prima. Non più infami i quei vecchiazzi del bago rosso. Sì, è vero. Armi, vecchiazzi. Cavolo di vecchio. Lo vedi la prima volta e dici Boh, questo sarà un boss fastidio. La prima volta che lo vedi. No, una palla di fuoco non ho. No, non lo facciamo a mangiare così. No, non c'è il posto. Nel 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 posto. Oggi è uscito da uno specchio, come clone di Dante, e adesso invece si compara con lui. Sì, è esploso i ceni. Quindi possiamo recuperare il calice. Ok, nuova strada. Grazie, grazie per queste cose buone. Ok, vediamo un po'. Tanto adesso dovrebbe unirsi anche poi altri ragazzi del gruppo. Vediamo un attimo. Qui devo passare da... E vedi che mi chiede? E ti dice, ok, deve andare lì, però non ti spiega. Parola inciso il calice della porta, aprirò il cammino oscuro. Va bene, ho capito che io voglio. Ma dov'è sto cammino oscuro? Dove devo andarmi a infilare per andare avanti? Diciamo che abbiamo sconfitto il boss. Vabbè, sarà nella strada precedente, dai. Non credo in queste stanze. Anche se forse sì. Ma, direi di qua non passiamo. Ho già il calice, ho l'ora di andare. Troppo ecco, non ho detto. Come non ho detto, come se non faccio finta di nulla. L'entrata è sbarrata, non posso tornare indietro. Ma allora c'è una strada in cui devo passare. Non è che ce l'inventiamo la strada. Ma c'è una strada qua sotto, ma dai. No, è sempre questa. Scusa, ecco. Posso aver cercato io? O non trovo dove è la strada? Allora... Va bene. Fin qui ce l'abbiamo fatta, dai. Fin qui siamo riusciti. Fin qui sopra vedo qualcosa. Sì, era qua. Era qua sopra. L'entrata è sbarrata. Non lo so anch'io. Se salta da qua... Salta dall'altra parte. Benissimo, benissimo. Era qua allora bisogna andare. Un po' trabocchetto non c'è più fatta, vedete. La statua di un cavaliere dorato. Sembra... Grazie per la Gifu. Sembra che ci sia stato qualcosa. Può utilizzare il calice. Sì, così ce l'inviamo. Da questo posto. Allora abbiamo aperto. E ce ne andiamo. E ce ne andiamo finalmente. Ok. Vedete che qua sotto. Si, esatto, esatto. Penso che il livello sia finito, eh. Penso che il livello sia finito. Missione compiuta. Bene, bene. Oh, finalmente. Aureola spezzata per lo sconfitto Nelo, l'altra volta. Esatto. Va bene. Salviamo. Accenture di fantasmi B. Finalmente un po' più decente. Un po' più accettabile. Guarda. Il bello è che si vengono testi. Sì, guarda, ma lei è bravissima comunque. Un'ottima strida, te la consiglio. Ma consiglio. Ok, benissimo. Intanto vi ammattito. Vi fa partire. Un just jumping. Oh. Allora. Anzi, vedete la prossima missione in cosa consiste. Scusatemi. Nave fantasma. Vai sul ponte nella cabina il capitano. Ah, me la ricordo. La missione della nave. Stiamo potenziando l'Alastor. Ma ciao, Anarick Evan. Allora, facciamo un altro livello. Facciamo un altro livello. Benvenuto. Eh, Devil May Cry. Vogliamo parlarne. È una gran serie. Beh, beh. Ok. Sì, sì, infatti, infatti. Finisco giusto questa modalità. Faccio ancora sto livello. Faccio ancora sto livellone. E andiamo giù nelle profondità. Grazie, Anarick. Grazie. Sei gentilissimo. Grazie. Poi vado a vedere. Se sei anche tu uno streamer. Passo poi anche da te a vedere il tuo canale. Grazie. Bravo, distrutti tutti. Ok, andiamo. Ok, vediamo un po'. Vediamo un po'. Cosa c'è? Distruggere? Tantantantan. Piovono, piovono quelle. Sì. Sì, che a me non me lo ricordo che c'era chiamata l'attualità. Me lo ricordo. Finisco ancora sto livello perché, cavolo. Sono contento di fare ancora uno, dai. Andiamo avanti con la trama. Andiamo avanti con la trama. Perché ho visto che ovviamente sono qua da un'oretta. Perché oggi, in pratica, ho iniziato un pochettino più tardi. Perché mi sono fermato a parlare come ospiti di un altro canale. Dove appunto mi hanno parlato di... Un po' in generale, guarda un po' di tutto. Se non sono in ritardo, non sono io. Ciao Jack. Ciao Pietro. Guarda, fra un po' facciamo giarchati in attualità. Chiedo anche a te, se vuoi unirti su Discord. Oh no, questo è il comando strano. Devo sparare... Devo sparare in prima persona a sto punto. Ok, perfetto. R1. Catti, ma... Importazioni. Cosa ho fatto? Diciamo, se vuoi unirti su Discord e parlare con noi... Intanto saremo io e Carmelo, guarda. Carmelo lo conosco da anni, quindi è una persona affidabile, guarda. So che... C'è il tasto per sparare. Ok, perfetto. Ci siamo. Mappa, file. Missione no. Missione no, in realtà. Vabbè, vediamo, eh. Copiamo, copiamo. Dovrebbe essere R2. R1 più il quadrato. Come viene? L1. L1 più... Vabbè, non è ancora. Diciamo lì. Ok, perfetto. Siamo usciti. Siamo usciti di qua. Ma tranquillo, mi sono appena svegliato del gioco un po' che altro FIFA. Siete più secondi l'auto di... Anche a me è mandato, sì, perché ha dei problemi di connessione, purtroppo. Ha dei problemi grossi. Vabbè, nel caso, eventualmente, magari puoi fare qualche domanda dalla chat. Ok, va bene, grazie. Intanto, guarda... È che tu, l'attualità, sei in gamba. È bello parlare con te di questi argomenti. Te lo dico perché... È una persona con la testa sulle spalle, eh. Per un motivo lì. Ok. Vi dico sempre, io, non è una questione di età, ma di maturità mentale, veramente. Ok, benissimo, vediamo. Perfetto. Allora, recupera l'arpione. Ok. Non qua, ma di qua. Andiamo al piano di sopra. Della nave fantasma. Della nave fantasma. Non vedo che... Che esistenza, ragazzi, si parla con l'unità. A tutto andare. Molte domande. Bene, bene. Grandi domande. Ecco, l'abbiamo trovato. Stavo proprio cercando questo. L'arpione. Finalmente. Oh, finalmente l'arpione. Senza quello non... Lo arpiavamo dall'altra parte. Ecco qua. Andiamo su. Dobbiamo andare al ponte. Il ponte è aperto. Si può andare. Si può andare avanti. Ecco la porta. Questa qui è chiusa. Sigillata è scritto qualcosa. Sono la nave che trasporta le anime a Rabon del confine degli inferi. Proteggi la nave e riceverai il fuoco di Sant'Elmo. Il fuoco di Sant'Elmo. Ok. E' già apparsi un nemico un po' strano. Che quello là della morte. E' il nemico un po' strano. Questa volta però lo facciamo con la spazio. Digi la nave. Digi la nave. E' un po' la macchetta. E' un po' la macchetta. Oh. Non devo portare il pericolo. Devo continuare a mettere l'unico il pericolo. Dai, 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 ci siamo. Boh, ho fatto fuori. Gun ci andrò. Benissimo. L'ho fatto? Perfetto. E' andata. Nel tre. Eh, le tre luci si accendono. E arriva. Chi arriva? Ma chi arriva? E la nave va. E la nave va. E la nave va avanti. Ok. Ok, ok. Ok, dai, ci siamo arrivati. Siamo arrivati avanti con la nave. Cosa ci sarà da fare? Ah, bene. Dicevo Pietro. Beh. Ha risolto. Non ho sentito il nuovo audio che mi ha mandato. Fammi sapere se ha risolto. Sai che stasera dovevo essere... Il video lì, nel caso, per me è la window. Mi fa entrare l'invito. L'ink singolo? Ma... Ma... Non va l'ink di Discord? Oh, che cavolo. Aspetta. Prova un attimo questo. È entrato prima Carmelo. Vado a vedere... Vado a vedere... Aiden. Mannaggia. Eh, te lo mando poi... Te lo mando poi io l'invito. Aspetta, facciamo così. Crea invito al server. Crea invito al server. Po 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 po. Eh, inviti, inviti. Eccolo qua. Creiamo invito. Utilizzi uno. Questo è un po'. Ne creiamo un altro. No, non lo fa creare. Mannaggia. La mia... Il codice di invito è scaduto. È scaduto? No, non scade più. Non scade più. Ma dai, non me lo fa vedere il codice di invito. Mannaggia. La mia... Oh. Che invito. Che invito. Niente, te lo mando poi. Abbi pazienza Pietro. Abbi pazienza. Te lo mando poi in seguito. Non ha risolto. Che paz... Aiden. Generatore di nomi. Bellissimo nome. Guarda. Dove le prendo? È da lì. Non piace. Eh, questo qui c'è fatta. È di nuovo il grifone. Questo qui... Il poso del genoa. No, in realtà... È peggio. È un po' di turno. Oh, abbiamo fatto cosa... Devo colpire un po' di una cosa. Bull. Bull. Abbiamo fatto un sacco di danni. Quella... Eccolo qui. Oh. Ovviamente... Non è... Non è... Non è un emotile fino a che fai. No. Bull. Bull. Dai. Su. Sì, infatti. Te lo mando poi bene. Guarda. Non so perché non ci pensare. What's bad? Ma senti più su what's bad? Non è vero. Cavolo. Devo intrecciampire. Se non è vero. Beh, facciamo il suo lavoro. Boh. Andate. Il grifone spettato attraverso con la voce. Sarà morto? Oh, cavolo. È ancora vivo. Non ti chiedi perché. No, è andato, è andato. Da qualche anno. Ma guarda. È bello scrivere. Io dico che scrivere è un gran bello sfogo. Ti dico. Almeno a me piace moltissimo. Non so come farei se non lo scrivesse. Ok. Ed eccoci qua. Andiamo avanti. Missione finita. Posso staccare veramente? Ok. Andiamo in giacciati. Tacchino freddo. Ed entriamo poi nella pubblica. La civica cacciatore A. È andata bene, ragazzi. È andata bene. No, non questa qua. Altrimenti mi sovrascrivo tutto solo. Ed è andata. È andata. Missione successiva. Guarda solo come si chiama. E poi stacchiamo. Difatti sto parlando. Con lui mi si è portato alcune delle mie spalle su manga. Guarda, anch'io ci ho provato. Ma non volevano poi disegnare. Non volevo disegnare. Sarebbe stato bello. Sarebbe stato bello. Guarda. Sono arrivato vicino l'idea di creare un manga con un amico. Ma non ci abbiamo fatta poi. Purtroppo. Sono stata l'idea. Era impegnativo. Non aveva voglia di disegnare. Lo capisco. Ma non è colpa sua.